Una casa esclusiva questo mese da Chateau D'Axe, così esclusiva che con 10.450 euro riesce ad arredarla tutta. Come il caldo abbraccio del divano Serena, tre posti in tessuto completamente sfoderabile, a soli 690 euro. Per il living invece ho scelto il design italiano, unito all'alta qualità artigianale del mobile della collezione Quadra, con finiture in venghe e bianco. E la cucina? Eleganza e cura in ogni dettaglio, 4 metri completi di cappa nascosta, lavello con miscelatore e piano d'appoggio a penisola, con finiture in bianco ed senza legno. Ed è anche completa di tutti gli elettrodomestici, ma non è finita qui. Fantastica la mia nuova camera da letto, completa di letto matrimoniale mimosa, in tessuto, con rete e contenitore guardaroba, che rialza il piano del letto per rifarlo facilmente. E poi tutti i bianchi e lucidi comodini, il comò è uno splendido armadio assegnante. Una private collection con un arredamento completo e coordinato che tutti possono ottenere a proprio gusto. Come? Con Chateau Dax naturalmente. Pensa all'arredamento di tutta la casa a 10.450 euro, 436 euro in 24 rate mensili. Che stile è Chateau Dax. Proprio vero, Miria. Telefonata numero verde 800 132 132 per conoscere il negozio Chateau Dax più vicino a casa vostra. Oppure cliccate www.chateau-dax.it Goditi la vita. Scegli Chateau Dax.